È venuto a mancare proprio quel senso di libertà di poter abitare uno spazio senza avere il timore o la paura che potesse esserci qualcuno o qualcuna che ti guarda con un occhio giudicante. Ed era il nostro plus, l'assenza del giudizio. Qualcosa è cambiato, troppe battute, allusioni e commenti spiacevoli, troppa violenza verbale. Si ferma così, dopo 12 anni, la stagione Why Not ad Arezzo, la serata LGBT e-friendly che una volta al mese veniva proposta in città. Negli anni passati c'è sempre stato un nutrito, una nutrita percentuale di persone alleate della comunità. Questa percentuale poi è stata, non soppiantata, però si è andata a inserire quella parte di società che non è alleata e che ci teneva a dimostrarlo. Era una decisione che dovevamo prendere perché non volevamo dare l'impressione che ci andasse bene. Uno stop ma non un addio e nemmeno una resa agli organizzatori, infatti non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. La nostra storia non ce lo permette perché è una storia fatta di lotte, di battaglie continue. E quindi continueremo a lottare per avere il nostro spazio perché lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alla nostra comunità, ma soprattutto non vogliamo che sia una vittoria di tutte quelle persone che fanno sì che la discriminazione, l'odio e la prevaricazione sia uno stile di vita e un concetto da portare avanti. Soprattutto la cosa disarmante è che il target è giovane. Da qui un nuovo appello a campagne di sensibilizzazione e progetti di educazione. Bisogna educare al rispetto, bisogna educare alle differenze.